Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di supportarci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al canale con l'attivazione della campanella su tutte le notifiche in modo da poter ricevere tutto ciò che è nuovo ed esclusivo. Un freddo polare durante la seconda settimana del prossimo giugno il 2023 potrebbe raggiungere l'Italia e l'inverno potrebbe tornare prepotentemente con l'inizio della seconda settimana di giugno 2023. Le previsioni finora sono ancora preliminari, incerte e soggette a modifiche, ma il modello americano nel suo ultimo aggiornamento indica un'elevata possibilità di ingresso basso clima freddo di origine polare al nord Europa con l'inizio della seconda settimana di giugno 2023, ma questa depressione non è stata ancora determinata. Interesserà solo il nord Europa e poi tornerà alla sua casa originaria, o raggiungerà la sua strada e penetrare ulteriormente per raggiungere l'Europa meridionale e verso l'Italia, attualmente il modello americano disegna una lotta molto forte tra l'alta pressione africana e la bassa pressione polare con l'inizio del prossimo giugno e se le aspettative sono stabili potremmo assistere a una grande sorpresa e l'inverno potrebbe tornare di nuovo in Italia con l'inizio della seconda settimana del prossimo giugno e potremmo assistere al ritorno delle piogge forti verso tutte le regioni settentrionali, centrali e anche meridionali in grande quantità con un'ondata di freddo e noi segui tutti i nuovi aggiornamenti, momento per momento e dettagli più accurati, quindi aspettali più tardi e quando il periodo si avvicina di più e, alla fine, sei in buona salute.